Sì, a questo punto veramente dipende solo a noi, non potremmo attaccarci a nessun tipo di determinazione di Manfrina perché a noi tocca andare a Torino tocca a noi dimostrare per l'ennesima volta e ce la meritiamo questa Champions League Era partita male questa partita, parla un vantaggio al decimo del primo tempo una grossa indecisione, anche troppo facile un po' di testa Purtroppo sì, la partita era partita bene però indubbiamente la squadra ha reagito e si è veramente visto la voglia di portare a termine una partita anche vincendola, forse aiutati anche dai risultati, fortunatamente non come domenica scorsa che arrivavano da Napoli, una partita a quanto sembra giocata veramente e quindi credo sia voluto fare un campionato abbastanza molto regolare e che l'ultima giornata si decide alla fine il destino di tutto quindi a vedere se siamo bravi a meritarci la fine in fondo dipende solo da noi bene, facciamo un grande in bocca al lupo a questa squadra e comunque vada io credo che comunque la Fiorentina si è dimostrata una squadra che se l'è meritata fino in fondo sul campo bene, facciamo gli auguri in bocca al lupo e ora per domenica in bocca al lupo e la Fiorentina per domenica e forza viola forza viola grazie 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 Grazie.